Qual è stato il primo impatto che hai avuto con Brescia? È stato molto bello, mi sono trovato subito bene e la squadra mi ha colto benissimo. Dopo che ti ha accolto benissimo, sei riuscito a fare anche il tuo esordio in Serie B, perché a Parma è perversato l'esordio in assoluto in B, magari su un campo dove non si poteva giocare a calcio quando sei entrato tu, però hai dato il tuo apporto e hai staccato questo biglietto. Eh sì, sono molto contento di aver fatto l'esordio in Serie B e poi in un campo come quello di di Parma è molto bello e aver aiutato la squadra a vincere è stato ancora più bello. Ci racconti un po' l'atmosfera dello spogliatoio dopo la partita, c'era la grande festa dopo la vittoria? Sì, la squadra era molto contenta perché abbiamo vinto su un campo difficile e sì, eravamo contenti, però sappiamo che c'è ancora tutto da fare. non si sono viste però molto le tue caratteristiche, visto comunque il campo è difficile, però anche tu credo che ti sia adattato prima alla battaglia, cioè hai capito subito che tipo di partita serviva in quel momento. Eh sì, tipo io sono un giocatore che sono una mezzala d'attacco e può fare anche l'attaccante esterno, però il mister ha bisogno adesso davanti, quindi per me va bene comunque. Hai detto mezzalata d'attacco anche l'attaccante esterno, nella prima del leader tu giocavi come esterno? Eh, facevo la mezzala. La mezzala. Tu lo facevi, ma il ruolo che ti senti più tu qual è? Preferisci giocare come esterno o comunque come mezzala ti sei trovato bene? Sì, il mio ruolo è mezzala, però posso fare tranquillamente l'esterno d'attacco. Che cosa ti porti del tuo ricordo degli anni all'Inter in questa tua esperienza? Eh, mi porto la turna in scena, è stata molto bella e ho imparato tante cose da quando allenavo con i grandi e ho imparato, ho visto com'è che si lavora nel calcio dei grandi. Tra l'altro si diceva di te che hai fatto un'ottima impressione a spalletti, tant'è che non si sapeva se potevi rimanere addirittura all'Inter oppure andare in prestito. Eh, questo non lo so dovete chiedere al mister, però sì ho fatto il mio, però questo non lo so se ho preso una turista non lo so. Cosa che ti ha convinto venire a Brescia? Eh, a Brescia, la mia gente mi ha parlato di Brescia, l'ho detto subito di sì, è una squadra che si conosce in tutto il mondo, io che sono dall'Honduras la conoscevo già perché è stata sempre una squadra storica con una Serie A. Parlando dell'Honduras, con la Nazionale com'è il tuo rapporto? C'è qualcosa che anche nel tuo futuro c'è un'idea comunque di riuscire a fare pianta stabile nella Nazionale dell'Honduras? Sì. Quanti Hondurini ci sono in Italia? Adesso solo io. Eh, infatti. C'era Suazzo. C'era Suazzo. C'era Suazzo. C'era Suazzo. Adesso adesso. E' una bella vetrina comunque anche per la Nazionale giocare comunque in un campionato come quello italiano. Eh sì, tipo la Nazionale mi ha convocato due mesi fa però non ho potuto rispondere alla convocazione perché dovevo partire con la squadra in ritiro e quindi non ho avuto l'opposità e andare a Nazionale. A Suazzo ci pensi? Sì, certo, certo. C'è un giocatore a cui ti riferisci? Cioè il tuo punto di riferimento? Un giocatore... Non so se potrebbe essere Suazzo che è stato in Italia e ha fatto anche molto bene in Italia oppure è un altro del tuo ruolo che... No, io guardo tutti, mi piacciono tanto i giocatori Peroni. Uno o uno, se ti direi uno, mi piace tanto Cristiano Ronaldo. Però io guardo tutti, cerco di imparare a tutti. Che cosa ti aspetti da questa tua esperienza? Cioè qual è il tuo obiettivo quest'anno? Il mio obiettivo è dare il massimo, il allenamento e farmi trovare pronto quando il mister mi chiama a causa e dare una mano alla squadra. Vi siete mesi con la qualificazione mondiale o due? Eh, un po' messa male, però il miracolo si può fare. Cioè, avete da fare ancora delle partite decise? Sì, sì, abbiamo due partite e se si vincono due partite possiamo andare al preliminare. Ah, il play-off. Sì, il play-off, sì. E tu se l'hai convocato oppure? Eh, questo non lo so, questo no, decisece, il mister. Da quanti anni sei in Italia? Da cinque anni. Cinque anni? Sì. E sei subito arrivato all'Inter? No, prima ho fatto eccellenza, ho fatto l'assistenza, ho fatto due anni, poi sono andato a Prato e poi sono arrivato all'Inter. Sempre in Toscana? Sì, sempre in Toscana. Famiglia? Tu sei qui? Sì, la mia famiglia è a Firenze. Ah. Firenze, famiglia. Che cos'è che ti piace di più e cos'è che ti piace di meno dell'Italia in generale? E' un po' il freddo. Eh, freddo? Sì. Cioè, non... Gli ultimi anni ti devo dire la verità? A me la vita a noi non è stato molto freddo. Eh, però tipo io sono stato a Firenze, a Milano e faceva tanto freddo. A Milano? Anche Firenze. Ti piace di più? Il cibo? Eh, il cibo sì, mi piace tanto. Un piatto in particolare italiano è la pasta. Basta il tonno. Ah, il tonno no! No, con le scatolette sopra. Ma era anche il tonno fresco. L'altro nella primavera dell'Inter era un giocatore che comunque, oltre a fare i gol ai compagni, hai fatto anche parecchi gol. Ti aspetti di riuscire comunque a ottenere questo in un campionato difficile come la Serie B? Eh, lo so che è difficile però, vediamo, ci troverò. E a Parma non ha avuto un certo possibilità. No, parla a moto forse, ma è una piscina a campo. Però il fatto che comunque con una rosa così ampia il misto ti abbia comunque convocato e ti abbia anche messo dentro, anche se è una partita difficile in un campo articolo, però ti abbia messo dentro, fa capire che comunque la fiducia nel te. Non siete in pochi. Ci sono tanti compagni e molti devono anche restare fuori e magari meriterebbero anche loro di giocare. Quindi il fatto che ti abbia convocato, è una bella fiducia quella che ti sta dando. Eh sì, siamo intatti nella squadra e da poco che sono arrivato e mi ha messo subito in campo. E' una relazione che credo di me, sono molto contento. No, spiegami solo una cosa. La squadra come tutto è tutto, non trappare, giocare, cioè come mai... E' perché è una squadra che è stata sempre in Serie A. Ah, in tempo. Certo. Sì, sì. Posto. Posto. Grazie. Grazie. Grazie.